La geotermia rappresenta il 30% dell'energia prodotta in Toscana, del fabbisogno energetico in Toscana, il 2% di quello nazionale. Dunque un grande valore è un'energia rinnovabile. Cosa hanno fatto i 5 Stelle e la Lega che tanto parlavano di energia rinnovabile? Sono arrivati al governo e hanno tagliato gli incentivi per la geotermia, cioè hanno fatto un danno a questo sistema, al tessuto produttivo, alle imprese, alle lavoratrici e lavoratori. Perché la Lega e i 5 Stelle sono così, a parole sono tutti uguali, poi vanno al governo e combinano pasticci. Bene, noi non soltanto vogliamo reinserire gli incentivi per la geotermia, ma vogliamo dire che dobbiamo aumentare gli investimenti in questo settore. Perché la geotermia è un pezzo qualificante delle energie rinnovabili ed è un pezzo qualificante dunque del futuro dell'Italia e dell'Europa. Grazie. Grazie.